ciao amici ciao amici ciao amici ciao amici ciao amici Non si accende? Perché non si accende? È acceso? Ciao amici! Finalmente di nuovo insieme! Insieme, vabbè... Insieme proprio no, no, no! Ciao amici! Questa nuova rubrica l'ho intitolata Tutti insieme in allegria! Perché è... Allegria? Ma che allegria? Non è proprio alleg... Ecco, e beh... Se... No! Qua schiava, mamma! Allora ci vediamo al prossimo appuntamento Con... Al titolo al limite Ci pensiamo un'altra volta